non venire a piangere sulla mia tomba io non sono là perché non sono morto è mio dovere di fronte a dio proteggere quei ragazzi dai mali del mondo come osa signor franklin perché ha fermato padre john ieri a volte bisogna esporsi per ciò in cui si crede lei è il primo insegnante laico che abbiamo eviti di commettere l'errore di confondere queste creature con esseri umani intelligenti le ragioni per cui siete qui non mi riguardano il mio unico interesse che voi studiate e impariate mercer che è successo secondo lei la disciplina dipende da lui io devo adeguarmi e anche lei io non cederò io non cadrò mangerò dinamite e un giorno angeli ribelli uno dei film più premiati della stagione